Mister Nel Cuneo ha conquistato 11 dei suoi 13 punti nel trasferta e questo cosa dice in vista della partita di domani? Dice sicuramente che dobbiamo fare attenzione, ma è anche vero che il contrario, cioè il fatto che anche noi abbiamo bisogno di farli in punti in casa, quindi domani può essere Cuneo come può essere Livorno o Siena qui e noi abbiamo l'imperativo di cercare di fare il massimo in casa, che per noi il massimo vuol dire sì fare prestazione ma anche cercare finalmente il punto importante che non diventi un blocco psicologico. Dobbiamo arrivarci da squadra, la gestione o la vittoria della partita dobbiamo arrivarci da squadra nei 90 minuti. Cenetti non ha recuperato, Ferrari arriva di nuovo fuori, Dursi ha detto prima che non ci sarà, ha già in testa la formazione, che Arezzo vedremo domani? Mi auguro sicuramente un Arezzo d'assalto perché è nelle nostre corde, un Arezzo con la personalità di continuare a fare le cose che fa quando sblocca la partita, quando vuole o quando è in transagonistica per andare a sbloccare il risultato. Dopo nelle situazioni quell'Arezzo si blocca e dobbiamo togliere quel blocco lì, è l'unica medicina, se possiamo chiamarla così, che credo io, che questa squadra deve continuare a fare quello che sa fare, volendo la palla, continuando a muoversi, essendo molto aggressiva nella nostra metà campo e soprattutto non rispedendo la palla al mittente appena si riconquista, ma facendo i due o tre passaggi in uscita che ci permettono poi di arrivare lì, rialzando la squadra. Corradi, Rinaldi e Sabatino sono in diffida, ministro, può essere condizionante questa cosa in vista anche della partita di Siena che è dietro l'ango? Io assolutamente no, perché quello che poi dico ai ragazzi è che è importante domani, non voglio sicuramente di gialli stupidi, di allontanamento della palla, di falli di ostruzione, ma se sono da spendere perché ci serve battere il cuneo, sono da spendere perché ci serve battere il cuneo. Poi abbiamo dei ragazzi pronti e dal lunedì ci ributtiamo con la testa a siena, però oggi che dobbiamo fare la rifinitura e domani noi dobbiamo pensare assolutamente al cuneo, solo al cuneo. Se c'è un rigore, chi lo tira a mister la domenica? I rigoristi sono Moscardelli e Cutolo e quindi sono grandi abbastanza per prendere una decisione in questo senso. Se poi ci possono essere, non credo, delle difficoltà, ci pensa il mister.